Siamo alla giornata conclusiva del corso tecnici quarto livello dove abbiamo preso il nostro diploma e ho deciso di fare questo corso perché voglio intraprendere la carriera di tecnico e dopo aver effettuato i corsi federali ho deciso di fare questo corso perché è il più importante, il più prestigioso fatto in Italia per i tecnici e dalla migliore preparazione per un tecnico che vuole lavorare a livello internazionale e sono molto contento di aver fatto questa esperienza perché ho avuto l'opportunità di confrontarmi con altri tecnici di altri sport e ho ampliato tantissimo il mio bagaglio culturale e di esperienze che abbiamo condiviso in tutti questi periodi di corso e quindi sono molto felice di aver partecipato a questo corso